A Benghazi la Libia dichiara ufficialmente la liberazione dopo 42 anni di regime. Migliaia di persone si sono radunate nella piazza della città portuale dove otto mesi fa è iniziata la rivolta contro Gheddafi. Presente anche il numero uno del Consiglio Nazionale di Transizione Abdel Jalil insieme ad altri ufficiali. La folla ha sventolato la bandiera e cantato il nuovo inno nazionale. Il primo passo della nuova Libia sarà quello di nominare entro un mese un governo provvisorio incaricato di preparare le elezioni dell'Assemblea Costituente che dovranno tenersi al massimo tra otto mesi. Entro un anno invece quelle parlamentari e presidenziali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.